Cominciamo a pescare. Allora qui spiegheremo sempre i pesci leggendari che sono molto ma davvero moltissimo. Difficili da prendere. Per me c'è una Dragon Fully. Se c'è una Dragon Fully sarà tipo una stacceggiata. Non è bene il mio coro e il leviatano. Mi caldo tanto bene, se non è proprio. Va bene. Il metodo è stato distratti. Loro arrivano quando stanno distratto. Guarda in alto e aspetta il rumore. Il rumore non fallisce. Ok, mi sto cominciando a spacciare. No, aspetta Leonardo. Tra un po' arrivo ancora. C'è 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 un po' arrivo ancora. Comunque dovremmo mettercela tutta. Ora andiamo in Giappone a fare della roba. No, sono ricchissimi qui in Giappone. Sto davvero facendo sera. Fulmono. Bene, vedo qui dove l'aspetta. è un po' arrivo ancora. No, sapevo che aveva in mente qualcosa. i miei boss sono i più intelligenti. I boss. i miei boss sono i più forti. Ma certo. e i miei boss sono i più facili. E io ho i scelchi più grandi. che si sono distinti. No, no. Ti sbaglio. E io ho i miei boss. E io ho i miei boss. Siamo 18 contro 21. Non c'è molto confronto di differenza. ma non mentiamo mai. Così, vedete? Va bene. Va bene. Dobbiamo lavorare con quest'isola. Allora. Andiamo. Allora, si va a qualche parte. No lo so. Mmm. Allora, ci stai stessi. L'aracchino bene siamo a 70 di asfalto ora basta metterli tutti all'isola tutti a 70 lo mettiamo qui, 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 vabbè non serve di sempre qui allora lì allora siamo delle papere a 10 10 in punto proprio tanto asfalto mi serve cosa si faccio? con tantissimo asfalto sono davvero messo male e poi credo che la taglia massima è un metro e mezzo non lo so non lo so il leviatan va bene il leviatan è davvero gigantesco lo dovremo usiamo l'escaplatino per tiempere le rinde l'escaplatino e stiamo già a pescare il nostro primo impero le rinde e così ci siamo uso la forza oh sono a 308 dico questi pesci mi stanno facendo salire molto di livello però è sempre salire di livello per me però a me ne servono quattro le ricette di quei orti hai ragionissima leonardo 2 lo dovevo creare più a due dimensioni così leonardo 2 era più un nome che ci donnava molto questo come mi sto facendo via platino per essere una volta ah siamo a 374 e ci arriviamo abbiamo un 15 impero le rinde sapete cosa vuol dire? bene le notizie ora dobbiamo no ma sta facendo per youtube ora dobbiamo assicurarci di prendere i craghen nel modo più facile possibile quindi l'ultimo che abbiamo preso gli impero le rinde ah ecco siamo a 30 ah forse 32 no direi di prendere gli altri pesci visto che questa è solo una simulazione ma i pesci esistono davvero e come pescarli davvero è simile per le canne da pesca dico allora siamo a 45 dobbiamo arrivare a 46 l'ultimo ci siamo ci siamo si vabbè però se ne prendo di più non c'è nessun ah problema mamma mamma se li vede impazzisce oh un megalodon no 36 non vale 40 non vale neanche ho perso ho perso ma sono una schiappa è vero ma davvero non sono una schiappa non sono una schiappa non sono l'ultima schiappa sapete ora cosa stavo aspettando per favore fateci passare ancora l'ultimo piccolo pesciolino e l'abbiamo e abbiamo superato i 60 i 99 ormai siamo spacciati abbiamo finito l'impero orlerinda e capo ok pescatori voi andate a pescarmene degli altri mamma ma tu sei il nostro capo non devi dare gli ordini ah vero Eollo devo dire i pescatori sulla barchetta comunque abbiamo superato tutti gli orbs siamo di 123 in più ora io vado a comprarmi quella barca allora al negozio allo scenario noi andiamo a comprare al tire poi andiamo alla nostra isola a vedere in che modo possiamo usare questo o presidente al tire qua non entra da nessuna parte no perché l'ho comprato no 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 ora che c'è anche altai quest'isola è diventata un completo leggendario potremmo dire così potremmo dire così pesci leggendari servono la cara leggendario la piore leggendario eccetera tutto quello che si leggendario tranne semplice il semplice non va affatto bene perché è troppo poco potente ora noi ci rivediamo al prossimo video vediamo 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 e ora costa 312.081 li vendo direi per le mie imbarcazioni da pesca ne ho comprato 3 l'argento per farle andare a pescare al Giappone ne metto una qui una qui e l'ultima cosa metto una lì iiii iiii vabbè ora ci siamo ora ci siamo noi siamo finiti mamma dove vai? le nostre abilità che da 19 minuti che sto facendo questo video al royal club troppo forti tutti questi aggeggi di lusso fine ciao ciao ciao